Queste statue monolitiche dalle sembianze umane sono chiamate moai e sono rappresentazioni monumentali degli spiriti dei capi che un tempo governavano l'isola. Rapanui è il nome dato all'isola dalle popolazioni indigene polinesiane che ha ispirato anche un celebre film ma oggi è conosciuta come isola di pasqua per ricordare l'arrivo del primo occidentale sull'isola il giorno di pasqua del 1722. Si pensa che il moai più antico risalga al 700-850 anche se la maggior parte di queste sculture fu realizzata tra il 1050 e il 1500. Oggi restano 900 moai con un'altezza che varia dai 3 ai 10 metri. Sono delle enormi teste con spesse sopracciglia, lineamenti schiacciati, grandi cavità oculari e mento sporgente. Questi volti dall'aspetto fiero sovrastano un busto lungo e braccia in basso rilievo aderenti al corpo. Si crede che il loro scopo fosse quello di mediare tra gli uomini e gli dèi ed erano venerate come rappresentazioni iconiche dei capi del passato. Realizzarle non fu semplice dato i pochi mezzi tecnologici a disposizione all'epoca. Usando picconi di basalto abili artigiani scolpirono i moai nella roccia vulcanica giallo-grigia del cratere del vulcano Ranuraraku. Una volta terminate le statue venivano trasportate verso la costa e collocate in piattaforme cerimoniali dette hau. Alcune teorie ipotizzano che il trasporto sia avvenuto facendo dondolare i moai, proprio come se camminassero. E in effetti gli stessi abitanti dell'isola credevano che le statue si spostassero da sole fino a raggiungere il proprio hau. Se il video ti è piaciuto metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici, ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!